Granata lanciata Rimane un nemico Il delinezzatore online è attivo Non hai scappo La squadra d'attacco ha eliminato i difensori La squadra d'attacco ha eliminato i difensori La squadra d'attacco ha eliminato i difensori Dobbiamo individuare una bomba. Il drone ha trovato una bomba. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi all'inserimento. Procedere di disinestare la bomba. Ci penso io. La tua posizione è stata comprometta. 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 Bucchi ha scoperto Granata a frammizzazione Copritemi, ricarico! Lancia una granata EMP Rimangono 15 secondi 10 secondi Devi recuperare il disinnescatore Mancano 5 secondi Adesso solo un operatore d'attacco Limite di tempo superato Un caso di un'unico di serra 15 secondi L'unico di serra difendete le bombe ricarico ora di un diversivo delle camere in posizione muro rinforzato signor di reattivo signor di reattivo ho fortificato il muro ricarica nuovo feed video operativo 5 secondi e le posizioni bomba sicura rivertiti aggiungo il mio ospite ricarica ricarica la squadra d'attacco ha trovato una bomba hanno trovato una bomba proteggetela l'ultimo attaccante rimasto in vita ci penso io vittoria alla difesa nemici eliminati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dobbiamo individuare una bomba attenzione il bene alleato ha trovato una bomba 10 secondi 5 secondi procedere a disinnescare la bomba grazie a tutti 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 bomba individuata grazie a tutti 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 grazie a tutti